ciao allora per la serie cose da edicola due cose il nuovo topolino con il franco bollo degli 85 anni di paperino e poi questo questo lo vediamo dopo oggi ho preso il box di figurine e mentre questo l'avevo preso lunedì oggi è mercoledì ok vediamo prima questo tempo di rinare a paperopoli topolino dicembre su topolino ma vabbè condono natalissimo cos'è bella la copertina che che l'avrà fatta vabbè qua c'è la pubblicità di frozen 2 vediamo un po marketing hanno collaborato dove cavolo ecco copertina giorgio cavazzano grande colore andrea cagol vediamo cosa c'è nel prossimo numero il plantoide cos'è nel giardino delle piante robot wow foglie rosse episodio 3 o di card in prestito ok adesso vediamo un po qua c'è il disegno di cavazzano forse vediamo ecco ce n'è uno ecco è quello è quello che hanno fatto anche in versione gigante alla luca comics questo dedicato gli 85 anni di paperino bello mi sa che che bello questo con con paperinic questo gastone che gli regala che bello completa la raccolta puoi trovare gli otto francobili di paperino presso i principali uffici postali post italiane bello no penso che terrò solo questo comunque allora quello che si è franco boglio no giorgio cavazzano infatti grande storica 313 archimedipio della nonna papera ah giusto questa il suo alter rego paperini gastone nipotini qui qui qua qua zio paperone fidanzata paperina c'è un franco bollo stato disegnato e colorato dal maestro cavazzano utilizzando varie tecniche i pastelli a cera l'acquerello dalle chine colorate al pastello a tempera fino al digitale paperino lavoro della sua automobili chiamata 313 dal numero della targa fedele ai compagni di molte avventure assemblata dallo stesso paperino con pezzi di autovetture diverse e quattro ruote prese dalla panciatrice del giardino bellissimo la 313 fa sua comparsa il 22 marzo del 1940 sulla striscia quotidiana del ciclo Donald Duck infatti anche questo mi sa che è disegnato da cavazzano aspetta sì infatti vedete grande bello 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 non so se prenderò anche gli altri però intanto uno ce l'ho bello anche la cartolina penso che lo terrò qua dentro così poi lo metto non lo so allora vediamo un po' allora starter pack di Batman 80 anni di Batman ok quest'anno è l'anno degli anniversari bene ottio 80 anni di Batman è più giovane di paperino vabbè lasciamo perdere allora la più grande raccolta di figurine e cart su Batman anche qui ci sono le cart starter pack contiene album di 48 pagine 3 bustine con figurine e cart contenitore per cart a soldi 4,90 euro il contenitore per cart è dentro l'album perché ho visto Manuel del canale 8 bit che l'aveva preso la Luca Comics il contenitore è dentro vabbè poi qua è uguale qua c'è alcune delle cart qua c'è una bellissima illustrazione di Batman ok vediamo se riesco oh ok qua sono le bello tipo ruvido avete presente no quella tipo stampa ruvida tipo bello anche qua ruvido qua invece qua è un po' ruvido è un po' liscio bello 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 e come ho fatto notare sì cioè qua vabbè potrebbero anche non metterlo visto che comunque è una cosa da collezione commemorativa va vabbè ma c'è il logo della Panini vabbè ok e qui c'è il questo è particolare perché allora Italia è un euro 36 pacchetti boh è una roba abbastanza strana perché di solito mettono 50 pacchetti chissà cosa vorrà dire tanto comunque si sa già che con con un con un box così non si riesce mai a completare l'album quindi cioè non fa molta differenza siano 50 pacchetti o 36 chissà magari hanno fatto in modo che se uno prende tutto il box adesso troverà tutte le figurine sarebbe fantastico ma la vita un po' dura sì infatti vedete vabbè allora qua c'è vabbè i tre pacchetti penso che aprirò solo questi per il momento e poi vabbè qua alla fine qui c'è ah ecco vedete eccolo qua il andiamo di toglierlo così acquisto un prodotto DC DC vince una vacanza esclusiva con la tua famiglia un'esperienza unica nuovo parco Warner Bros World Abu Dhabi carina anche la scatola bella panini DC Warner Bros bello 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 ok adesso apriamo i pacchetti le card sono queste qui c'è una Batmobile non è bello perché è scritto in inglese va bene qui c'è Batman quello della serie ah no The Brave and the Bold perché in inglese va bene e e qui c'è un'altra Batmobile che è quella degli anni 80 infatti me la ricordavo ecco qua ma vabbè c'è 32 di 36 vabbè boh e qui ci sono le figurine allora c'è Barbara come Oracle quando dopo che si è fatta male non mi ricordo in che circostanze comunque a un certo punto lei non è più Batwoman perché si fa male deve stare su una sede dell'hotel però aiuta Batman tramite computer eccetera Wonder Woman ah Catwoman del film della trilogia nuova Harley Quinn Joker qui c'è una vecchia versione oh mio dio vabbè qua c'è la Justice League ah sì questo è del cartone animato questo è sempre ah no questo forse è il fumetto qualche fumetto mi sembra mmm vabbè poi del film con Bane ah questo anche una roba vecchia mamma mia figata la moto bellissima con il Batarang e qui c'è Superman no belle belle poi vabbè aprirò anche le altre e poi quando finirò questo come tutti gli altri vi farò vedere magari farò una un video con diversi album finiti sperando di riuscire a finirli ok ciao ciao ciao